Bentornati su MyFootballJersey. Torniamo in NBA per vedere la maglia Statement Edition dei Cold State Warriors per la stagione 22-23 in edizione Swingman. I Golden State Warriors hanno svelato la loro nuova uniforme Statement Edition per la prossima stagione 2022-23. La nuova uniforme è semplice nel suo design generale. Una base blu reale scuro con giallo, nessun bordo bianco da nessuna parte o altri colori. Attorno al collo e ad ogni braccio ci sono spesse strisce gialle. Una sottile linea blu delimita anche il collo. La scritta Golden State è arcuata sul davanti in giallo con sotto il numero del giocatore. Il lato destro della maglia ha una doppia striscia gialla, il sinistro invece non ha strisce e la striscia sul braccio termina a circa metà della parte posteriore della spalla. La striscia laterale destra continua fino ai pantaloncini. La maglia è molto bella. Nella mia classifica prende 4 stelle. È la maglia dei campioni in carica, quindi voglio dire un fascino particolare e peraltro di una qualità eccellente. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso soprattutto per una maglia con questa qualità e con una spedizione così veloce. Questa è arrivata in 21 giorni. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere sul sito perché troverete tante offerte e sconti progressivi legati alle quantità. Ora ragazzi prima di lasciarvi alla parte finale mi raccomando mettete un grosso like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. Ciao! 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 Ciao!